eccomi qua allora purtroppo come abbiamo visto non è che sia andata benissimo la il tentativo di diretta con con twitter allora faccio il bis rispiego esattamente la stessa cosa con facebook anzi guarda me la tengo persino con cuffie e auricolare così evito di disturbare il resto del pianeta e almeno abbiamo un qualcosa che viene registrato un pochettino meglio perché oggettivamente non si poteva vedere quell'altro quindi in buona sostanza abbiamo visto nelle prime due puntate delle basi origine della moneta gli scambi esteri adesso vediamo di capire come è originata la circolazione del denaro all'interno invece di uno stato di una comunità allora il sistema è analogo a quello del ciclo dell'acqua quello che vi viene spiegato nelle scuole avete presente l'acqua evapora poi diventa nuvola poi va sulla montagna piove scende nel fiume va nel lago poi passa fuori dal fiume ritorna e ritorna nel mare ecco il denaro è simile ci sono due tipi di soggetti principalmente che sono i soggetti in surplus e soggetti in deficit i soggetti in surplus strutturalmente sono le famiglie le famiglie sono in surplus nel senso che hanno risparmio vale a dire che hanno più denaro rispetto a quello che normalmente dovrebbe servire per la sussistenza uno magari al momento un concetto del genere sembra non chiarissimo dice ma no siamo tutti poveri sì ma attenzione la famiglia tendenzialmente ha sempre un po di più rispetto di quello che serve immaginate per far fronte una spesa imprevista non lo so appunto tipicamente si rompe il frigorifero d'estate si rompe l'automobile così via normalmente seppur con le rate una famiglia dovrebbe riuscire ad avere la parte quella piccola parte di risparmio necessaria per fare investimenti anche quando si crede di avere dei debiti caso tipico il mutuo no perché il mutuo copre una parte dei risparmi che si è deciso di investire in una casa quindi se la casa vale 100 il mutuo copre 80 e probabilmente la quota residua e 40 ma dall'altra parte quindi significa che tu hai un risparmio di 60 che è immobilizzato in quel momento in una casa ma è pur sempre risparmio e pur sempre ricchezza della famiglia questo surplus vale a dire questi risparmi dall'altra parte sono fisso sottovoce perché sennò sveglio e a quest'ora sveglio tutti non mi pare il caso invece dall'altra parte si va ai soggetti in deficit i soggetti in deficit tipicamente sono le imprese perché l'impresa dovrebbe essere in deficit beh l'impresa in deficit perché significa che molto banalmente riesce a tirar fuori dal suo lavoro un margine di guadagno che è superiore rispetto al costo dell'approvvigionamento del denaro quindi se io sono una ditta che fa cinture e le vendo tutte posso tranquillamente pensare di espandermi comprando un altro capannone comprando delle altre ma delle altre macchine le prendo a prestito i soldi per fare queste cose se il costo del denaro preso a prestito è l'uno per cento ma al margine che io riesco a tirare fuori dai nuovi investimenti e il 3 per cento evidentemente mi intasco il 2 quindi normalmente dovrebbe essere così cos'è diciamo la forza di gravità o la forza dell'evaporazione che riesce a far passare il denaro dal da chi ne ha in eccesso vale a dire i risparmiatori e le famiglie a chi invece ne ha bisogno vale a dire le imprese beh questo dovrebbero essere gli intermediari finanziari vale a dire le banche i sistemi di investimento e così via quindi io cittadino deposito i miei risparmi in banca la banca presta questo denaro a il soggetto in deficit che che ne ha bisogno a quel punto può anche farlo con effetto moltiplicatore è ovviamente ricordiamolo e a quel punto vedete che c'è la circolazione del denaro quindi il denaro in surplus viene trasferito al soggetto in deficit il soggetto in deficit si espande crea lavoro assume il cittadino che a sua volta risparmia che quindi può comprare i prodotti e tutto funziona cos'è che convince il cittadino a cos'è che convince il cittadino a prestare il proprio denaro il tasso di interesse quindi quella specie di i piccola che indica il tasso di interesse è molto importante normalmente nella gestione dell'economia perché convince i soggetti in in surplus a prestare il proprio denaro ai soggetti in deficit attenzione perché è una delle motivazioni che può spingere quindi per tramite del pagamento del tasso di interesse a fare questo trasferimento è l'inflazione io famiglia che sono soggetto in surplus per paura di vedere che i miei risparmi vengano erosi dall'inflazione li presto volentieri in cambio di un tasso di interesse e così facendo faccio affluire il denaro a chi ne ha bisogno vale a dire le imprese facciamoci caso mettiamo assieme man mano cominciamo a mettere assieme i puntini vediamo dove si rompono queste catene vediamo dove il sistema non tiene vediamo perché i tassi a zero riescono rischiano di essere un problema vediamo perché sostituire una banca centrale alla normale intermediazione del denaro diventerà essere un problema quindi cominciamo a pensare a queste cose poi vedrete che tutto il resto apparirà assai più chiaro ok altra cosa ovviamente che dobbiamo tenere presente in sede di circolazione del denaro è il sistema di passaggio normalmente fra il denaro fra il lavoratore dipendente il pensionato il lavoratore autonomo anche questo prendiamola come nozione e ce la mettiamo lì ce la mettiamo via perché vedrete e che poi servirà anche a capire molto bene che cosa non è andato e cosa poteva andare meglio con il lockdown e similari tenete presente cosa succede normalmente in un tessuto economico il 27 del mese arriva il denaro accreditato ai dipendenti ai pensionati agli statali e così via e non arriva nulla quindi il 27 un giorno esattamente come un altro per l'autonomo per il professionista per il commerciante così via una volta accreditato il denaro il 27 ecco che nel corso del mese si trasferisce invece dal lavoratore dipendente dal pensionato dallo statale così via si trasferisce all'autonomo si trasferisce al commerciante si trasferisce al professionista quindi io incasso lo stipendio esco e faccio la spesa e a parte del mio denaro passa al negoziante poi mi vado a tagliare i capelli e parte del mio denaro passa al barbiere poi mi vado a fare un massaggio e parte del mio denaro passa al fisioterapista poi vado dal medico e parte del denaro passa lì e alla fine si arriva a fine mese dove tante volte si è arrivati a zero o con una piccola quota di risparmio pronti per ricominciare e com'è che ricomincia ricomincia perché in questo passaggio si sono creati dei delle tasse che sono state pagate allo stato che quindi può ricominciare a pagare senza necessariamente fare deficit potrebbe ovviamente ma facciamola proprio semplificato come come giro che può ritornare a pagare gli statali dall'altra parte chi ha invece il professionista e similari a sua volta ha comprato magari dei beni prodotti dalla fabbrica del lavoratore dipendente no che quindi può continuare a pagare gli stipendi e così via vedete che tutto gira sempre così facendo è tutto molto semplificato ma è molto comprensibile il tasso di interesse trasferisce il denaro dal surplus al deficit il sistema in generale del commercio trasferisce nel corso del mese il denaro dallo stipendiato dallo statale fino fino al privato e così via richiudendolo teniamo in un angolo questi della testa questi circoli che vedrete che mettendo insieme tutto con la natura della moneta con il commercio estero e così via poi tutto tornerà chiaro ma almeno questi sono proprio le basi delle basi e serve proprio per capire cosa poteva essere il fatto di differente e cosa evidentemente non è stato fatto grazie a tutti grazie a tutti